Musica Sciocchi in caserma a Borgo Santa Maria, carabiniere si toglie la vita prima di iniziare il turno di lavoro. Per l'associazione un'arma è una strage silenziosa, bisogna mettere in campo ogni azione di prevenzione sul caso aperta un'inchiesta. Al via le richieste di annullamento della sanzione prevista per gli over 50 non vaccinati, tutti i moduli, sul sito di Azur Market. Green Pass e mascherina il chiuso, dal primo maggio si cambia, attese le nuove norme dal governo, fissato per domani il Consiglio dei Ministri. Musica Dipende dal luogo, c'è una regola generale che mi sembra assurda. Carenza di personale e appelli andati a vuoto, l'allarme degli imprenditori che non trovano bagnini, barissi e cuochi per la stagione estiva ormai alle porte. Musica No, secondo me hanno influito i genitori che gli danno i soldi in mano e questi non ci pensano neanche di andare a lavorare. Passeggi a Fanno, l'assessore Brunori replica ai 5 stelle entro settembre i nuovi arredi, mentre il prossimo anno il giardino diventerà un parco delle meraviglie. Musica Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. La procura ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Andrea Giommi, il carabiniere di 50 anni, morto ieri nella caserma di Borgo Santa Maria nel comune di Pesaro. Un atto dovuto ma pare che non ci siano dubbi. Andrea si sarebbe sparato con la pistola d'ordinanza prima di entrare in servizio. Lascia la moglie e due figli. E' una strage silenziosa, ha commentato l'associazione sindacale dei carabinieri Unarma. Viviamo attoniti un dramma, mentre ci lascia l'ennesimo collega che non ce l'ha fatta. In questi momenti di lutto hanno proseguito in una nota. Cercare di capire è necessario, ma purtroppo è tardivo. Hanno aggiunto i rappresentanti sindacali che hanno lanciato un appello affinché venga messa in campo ogni azione di prevenzione e di cura, senza che nulla resti intentato. Un richiamo all'istituzione è arrivato anche da Stefano Pollegioni, delegato provinciale dell'Udc per il comparto di sicurezza pubblica. Tra le forze armate e di polizia si contano numeri agghiaccianti. Ben 18 suicidi nei primi quattro mesi del 2022. Ancora cronaca, è stato identificato il genitore di un giovane calciatore che il 18 aprile scorso, in occasione della partita degli Under-14 al campo sportivo di Gabiccemare, per futili motivi, aveva scavalcato la recinzione del campo e aveva aggredito l'allenatore della squadra ternana, sferrando un pugno e calci. A seguito dell'intervento di un agente di polizia che libero dal servizio si trovava sul posto e grazie alle indagini dei carabinieri nei confronti dell'uomo, il questore di Pesero Urbino ha emesso il divieto di accedere agli impianti dove si svolgono incontri di calcio, il cosiddetto DASPO, per la durata di due anni. Il governo è a lavoro per il nuovo decreto che sarà approvato domani in Consiglio dei Ministri, si discute sull'obbligo delle mascherine al chiuso che probabilmente resteranno in alcune attività anche dopo il primo maggio. Il tempo delle mascherine non è ancora finito. Dal governo, infatti, sono attese le nuove regole sul dispositivo di protezione. Certo è che dal primo maggio, se allenteranno le restrizioni anticontagio, il Green Pass, ad esempio, non sarà più necessario per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Tra questi, bar, ristoranti, centri benessere, convegni, cinema e teatri, ma anche i centri culturali, sociali e ricreativi. Unica eccezione, gli esercenti, le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, per cui resta la sospensione del lavoro fino al 31 dicembre. Per chi non si vaccina, rimane da sciogliere, invece, il nodo delle mascherine al chiuso. Saranno determinanti, nelle prossime ore, i dati sull'andamento dell'epidemia. Il governo sta pensando di prorogare l'uso della mascherina dopo il primo di maggio in determinati luoghi chiusi. È d'accordo su questa cosa? Se il luogo chiuso è molto piccolo e affollato, penso di sì. Se no, no. Cioè, dipende dal luogo. C'è una regola generale, mi sembra assurda. Quindi dovremo valutare poi a seconda del comando, ci farà sapere. Com'è la situazione, come anche all'aperto, la stessa cosa. Se uno viene qui al mercato il sabato, probabilmente la mascherina è utile. Anche perché non c'è più nessuno che prende l'influenza. Perché c'è la mascherina, però è una scocciatura. Io lo indosso, lo indosso facoltativamente. Nel luoghi di assembramento dove ritiene si è più opportuno. Sono costretto, quando entro dentro un locale, magari anche me lo chiedono, purtroppo la metto. E a volte sono un po' antico, ecco, delle cose. Comunque, credo che è meglio che vada così. Per me è giusto dentro, chiaramente, è giusto perché non bisogna sottovalutare l'importanza perché ancora il virus esiste, c'è, circola. Dentro sicuramente, fuori non penso, non so. Sono d'accordo, d'accordo, luoghi chiusi, d'accordo, ad eccezione di quelli che ristoranti in cui uno se li deve comunque togliere. Però treni, dove sono i luoghi chiusi, io sono d'accordo. Parla infatti anche di mezzi di trasporto, secondo le prime indiscrezioni. Sì, mezzi di trasporto, treni, autobus, d'accordissimo. Supermercati, addirittura, sì. Perché comunque, ancora, secondo me, ancora fino all'autunno sarebbe opportuno tenerle. In un negozio è giusto. Anche a passeggio, quando ci sono questi assemblamenti, il mercato, la sede che c'è, tanto passeggio, è opportuno ancora indossare la mascherina. Io sarei ancora, possibilmente, d'accordo quanto c'è la gente nei posti chiusi, nei negozi, ancora da mettere la mascherina. E lei è giusto. Se voi venisse prorogate in determinati luoghi, non in tutti? No, sì, anche tutti, perché il supermercato, dove si va, perché non si sa mai dalle persone ancora, sono positive ancora. E stanno girando, fanno i test anti-covid e non dicono neanche al dottore che sono positivi. L'area vasta 1 fa sapere che è possibile richiedere l'annullamento della sanzione prevista per chi non si è vaccinato contro il covid. Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito www.azur.market.it alla sezione eventi e news. Coloro che hanno più di 50 anni e che hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, potranno scaricare direttamente dal sito i moduli necessari, gli allegati 1A e 1B. I moduli possono essere ritirati anche negli uffici in relazioni con il pubblico di Fano, Pesero e Urbino e negli uffici di Anagrafe Sanitaria, il cui elenco è consultabile sul sito alla guida servizi nell'area amministrativa alla voce Anagrafe Assistiti. La domanda può essere consegnata con raccomandata via PEC o direttamente negli uffici protocollo di Fano in via Ceccarini 38. La pandemia e il reddito di cittadinanza, secondo molti imprenditori, avrebbero cambiato la mentalità soprattutto dei ragazzi che non rispondono alle offerte di lavoro. La carenza di personale si sta registrando in tutta la penisola così come sul nostro litorale. Colloqui e appelli andati a vuoto. Sono centinaia gli imprenditori che in queste settimane hanno lanciato l'allarme rosso che rischia di travolgere più settori e che riguarda in particolare il lavoro stagionale. Dagli chef stellati alle attività lungo le spiagge in tanti, lamentano, e in tutta Italia, la carenza di personale. Alcuni di loro attribuiscono la colpa al Covid che avrebbe cambiato le esigenze dei giovani sempre meno disposti a fare sacrifici e a impegnarsi. Altri invece ritengono che il reddito di cittadinanza sia una forma di concorrenza sleale al lavoro. Lo staff qua in spiaggia è il completo? Cercate i personali? Sì, diciamo siamo quasi al completo, ci manca una o due figure che adesso speriamo di trovare perché il discorso del personale sta diventando ogni anno un problema sempre più enorme. Purtroppo le persone non si trovano che vogliono fare la stagione, un po' dal fatto anche che magari riescono a percepire un reddito stando a casa e questo ci penalizza tanto. Poi anche il discorso dei bagnini di salvataggio, abbiamo una grossissima difficoltà a trovare personale di salvataggio. Parecchie aziende, anche stabilimenti balneari, stanno cercando in genere tutti, tutti stiamo cercando personale, chi più chi meno. Adesso da noi c'è una squadra che ringraziando il cielo siamo riusciti a far riconfermare dallo scorso anno, c'è anche un paio di figure, però molti si ritrovano anche a dover fare tutto l'intero staff ed è un problema. Ci siamo spostati in un bar gelateria, anche voi ho visto l'ingresso, cercate personale? Non si trova nessuno, non vuole più lavorare nessuno il sabato, la domenica, la sera, un po' hanno il regno di cittadinanza e preferiscono stare a casa. Non si capisce perché fino a qualche anno fa era tutto un portare curriculum e invece adesso quest'anno neanche uno proprio me l'hanno portato. Secondo lei l'emergenza sanitaria e il lockdown ha influito un po' anche sulla mentalità dei più giovani? No, secondo me hanno influito i genitori che gli danno i soldi in mano e questi non ci pensano neanche di andare a lavorare perché proprio non esiste, solo minorenni si trovano che vengono a chiedere e i minorenni poi non possono lavorare la domenica, devono fare delle pause lunghe, continuative durante la giornata e non si possono assumere i minorenni insomma. Enzo anche l'associazione Mare Dentro cerca bagnini? Eh purtroppo sì, quest'anno è peggio dell'anno passato perché facciamo fatica a trovare gli assistenti bagnanti, i lifeguard, i cosiddetti lifeguard per il discorso del servizio di salvataggio sulle spiagge. Mancano giovani, ci sono dei requisiti particolari richiesti? Ma i requisiti particolari per il nostro settore per il discorso del salvataggio acquatico sono che devono avere il brevetto di bagnino di salvataggio o assistente bagnanti, mare, piscina e acque interne, possibilmente per l'assunzione sarebbe meglio comunque i 18 anni perché diventa tutto più complicato se sono minorenni perché ci vuole il tutor come sapete voi. Questi sono i requisiti che chiediamo noi per il discorso di fare l'assistente bagnanti e un minimo di esperienza e se non ce l'hanno la fanno insieme a noi. Secondo lei quale può essere quest'anno la problematica? Questa è una domanda da 100 milioni di euro, sinceramente non ce lo spieghiamo. Maredentro ha fatto anche la comunicazione nel centro per l'impiego di Fano e di Senegallia, ci hanno mandato qualche nominativo, la maggior parte di loro erano già impegnati e gli altri invece non siamo riusciti a contattarli. Fino a quando c'è tempo? Noi iniziamo, siccome Maredentro ha un'ingestione delle spiagge libere del comune di Marotta-Mondolfo, noi iniziamo il sabato 4 di giugno e finiamo domenica 4 settembre. Abbiamo bisogno, stiamo cercando ancora due bagnini di salvataggio, ma non siamo solo noi perché anche all'interno degli stabilimenti in concessione o anche come sai tu, ristoranti, bar, alberghi e tutto il resto, siamo alla ricerca di personale. Noi come Maredentro sono assunti regolarmente come da contratto nazionale e quindi hanno tutti i requisiti nell'assunzione, nello stipendio, piuttosto che anche il discorso poi a fine stagione dei requisiti minimi per la mini-aspi, la ex disoccupazione. Però facciamo fatica. Antenne di telefonia mobile e tecnologia 5G al via da domani il ciclo di incontri organizzato dal comune di Pesaro per informare la cittadinanza su un'infrastruttura, si legge in una nota primaria per la città, che garantisce innovazione e competitività e che non nuoce alla salute. Per tre pomeriggi, a partire da giovedì 28 aprile, sempre alle ore 18.30, nel salone di Palazzo Gradari in Via Rossini, si parlerà dunque di infrastrutture di comunicazione elettronica insieme a tecnici, professionisti e rappresentanti dell'amministrazione comunale. Torniamo a parlare dei passeggi a Fano, perché dopo la richiesta di informazioni da parte del Movimento 5 Stelle, sia sul cancello sempre aperto anche di notte, sia sul progetto di riqualificazione, oggi l'assessore Barbara Brunori ha fatto chiarezza, annunciando che quel giardino diventerà un vero e proprio parco delle meraviglie. Il servizio di Filippo Pucci. Una interpellanza dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle per avere informazioni in merito allo Stato dei passeggi di Fano. Questo luogo è sprovvisto da dicembre 2019 del cancello d'ingresso nella zona del Ponte Rosso, dopo che un furgone si è schiantato contro, sradicando parte della recinzione, i cubi in granito e appunto l'entrata. Inoltre i pentastellati chiedono a che punto sia il progetto dell'Enel che prevedeva l'installazione di alcune panchine tecnologiche, defibrillatori, postazioni di ricarica per le biciclette elettriche e videosorveglianza, come annunciato, ad aprile dello scorso anno attraverso una conferenza stampa in comune. A risponderci oggi a queste domande è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. È un luogo straordinario dove ci siamo presi un impegno, un impegno che manterremo, è già in work in progress. Le tre panchine tecnologiche, le due telecamere che sono state promozionate da Enel verranno installate a breve. Chiaramente io quando mi sono esposta avevo già annunciato che ci sarebbero voluti dei tempi amministrativi per le pratiche perché non è un'opera che realizza direttamente il comune, ma è per conto di Enel. Quindi tutte le autorizzazioni necessitavano di un po' di tempo, ma siamo arrivati nella fase finale per cui mi auguro che entro settembre dovremo avere tutto operativo questo sistema per cui un'area che si posizionerà di fianco a quella dei giochi vicino al chiosco e quindi che sarà a servizio della comunità. In più sta proseguendo la progettazione partecipata curata dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine sulla riqualificazione dell'area dei passeggi che presto diventerà un parco e un giardino sperimentale dedicato tutto a loro. Ci saranno delle grandi sorprese. Io in primis li sto seguendo in alcuni dei loro appuntamenti. Hanno già delle idee davvero non strampalate, ma idee concrete che tengono conto anche di tutte le sensibilità e l'accessibilità di quel luogo. E quindi quest'anno terminerà la progettazione. Stanno già lavorando addirittura su un grafico, ma anche su quello che è proprio una struttura da presentare alla città e in Consiglio Comunale. Dopodiché a fine anno andremo a progettazione con i tecnici per poi realizzarlo il prossimo anno. In ultima battuta, rispetto al cancello e al servizio di guardiania ci stiamo assolutamente ragionando perché lì manca un cancello che non è stato volutamente sostituito in quanto dovendo rifare la progettazione tutta abbiamo pensato di attendere la chiusura del progetto per poi andare a fare un investimento. È inutile buttare via soldi. È chiaro che anche il servizio di guardiania in questo momento è collegato al cancello perché di fatto c'è solo un cancello aperto e gli altri rimangono chiusi. Stiamo valutando assieme all'amministrazione e alla Giunta delle prossime decisioni da prendere. Doppia inaugurazione a Monbaroccio. Si è cominciato il 16 aprile con il taglio del nastro della pista polivalente nella frazione Cairo recuperata da uno stato di totale abbandono e degrado. L'intervento consentirà ai giovani non solo di dedicarsi alle attività sportive quali palavolo, basket e calcetto ma anche di disporre di uno spazio più sicuro per la festa della tagliatella prevista per il mese di agosto. Il secondo taglio del nastro è avvenuto il 24 aprile a Montegiano che è stata dotata di una struttura comunale dedicata alle attività sociali come ad esempio la tradizionale festa della Crescia Sai Kukon ovvero l'evento dedicato alle uova sode e alla pizza di Pasqua. Ieri in Regione è stata approvata all'unanimità la legge per la tutela del cavallo del Catria. Per le attività collegate sono previste anche dei finanziamenti. Il cavallo del Catria ora è tutelato per legge. Promotore dell'iniziativa è il consigliere di Civici Marche Giacomo Rossi soddisfatto per l'approvazione all'unanimità nella seduta di ieri del Consiglio regionale. Vogliamo fortemente, ha commentato il vicepresidente delle Marche Mirko Carloni, che i giovani riscoprano l'allevamento dei cavalli e ripartano dai misteri della montagna. Per fare questo dobbiamo rendere economicamente vantaggiose queste attività che finanziamo attraverso specifici bandi attualmente aperti. Siamo convinti, ha aggiunto Carloni, che il sostegno degli agricoltori e degli allevatori sia nevralgico per preservare il territorio appenninico, conservare le risorse genetiche animali e vegetali, nonché mantenere vivi gli usi e le consuetudini nelle aree interne. Stiamo dimostrando concretamente, ha concluso l'assessore, che l'agricoltura e l'allevamento siano finalmente tornati al centro della politica regionale. Per Rossi questa legge andrà a finanziare, in accordo con le associazioni di categoria, alcune attività di promozione e di tutela del cavallo del Catria. Dunque Rossi, un bel risultato? Sì, un bel risultato, una legge che va a promuovere e tutelare il cavallo del Catria, che è l'unica razza equina marchigiana. Quindi prosegue la strategia della regione Marche di valorizzare e difendere questo cavallo. Una legge che prevede anche delle risorse per effettuare la promozione, quindi anche per esempio la fiera Cavalli di Chiaserna, che quest'anno ritornerà in versione primaverile, il 30 aprile e primo maggio, dove tra l'altro sarà presentata questa legge insieme anche all'assessore Carloni. Quindi una legge che lega il cavallo al nostro territorio, lega il cavallo del Catria a Cantiano, prevedendo anche un centro di monitoraggio del cavallo del Catria, una legge che sicuramente fa bene al nostro territorio, al nostro introterra e promuove la regione Marche, perché il cavallo è un prodotto diffuso e amato in tutto il mondo e sicuramente valorizzare la nostra razza equina, autoctona e regionale significa anche promuovere la regione Marche. Invece, grazie al lavoro svolto dalla capogruppo 5 Stelle Marta Ruggeri, ieri il Consiglio regionale ha approvato la legge per la promozione e la disciplina di Ecomusei. Si tratta di una buona notizia, hanno commentato i consiglieri di Fano del Movimento 5 Stelle, anche per la frazione di Metauriglia, che da anni si batte per il progetto dell'Ecomuseo Orto di Mare. La regione ora potrà finanziare, nella misura massima del 50%, il recupero di spazi, luoghi e beni caratteristici e identitari, nonché la riattivazione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, aprendo i margini per un rilancio dello sviluppo locale. Il primo stanziamento ammonta a 60.000 euro, ma l'augurio, hanno concluso nella nota, è quello di aumentare le risorse nel prossimo futuro. E con questa notizia noi chiudiamo qua il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.